a tutti buonasera buonasera allora bentornati in diretta bentornati a questa prima live del duemila e ventiquattro siamo forti siamo carichi con grandi risultati del duemila e ventitré allora stasera parliamo dei nostri investimenti dei nostri programmi investimenti più speculativi investimenti per la pensione strutture per realizzare grandi risultati a livello privato realizzati nel duemila e ventitré gli storici quindi abbiamo chiuso un altro anno insieme sono tanti anni che siamo insieme andiamo a rivedere un attimino tutto quello che abbiamo costruito in questi anni e poi andiamo in questa sera a vedere quelle che sono le prospettive per gli investimenti del duemila e ventiquattro importante andare a vedere quello che abbiamo costruito non solo nel duemila e ventitré ma come abbiamo gestito gli anni di crisi come il duemila e ventidue come il duemila e venti durante la pandemia come gli anni precedenti e i risultati accrescitivi che abbiamo creato e chiaramente andare a vedere oltre quelli che sono i risultati comprovati che abbiamo tirato fuori eh insieme a tutti voi insieme alla MIPI community andiamo a vedere quelli che potranno essere veramente eh le prospettive per il duemila e ventiquattro allora andiamo eh subito a entrare nel nel sodo perché mh è eh una serata importante e gli argomenti sono veramente tanti ok allora iniziamo subito intanto vedo che la platea si sta creando stanno entrando le persone bene benvenuti benvenuti in questo duemila e ventiquattro un duemila e ventiquattro che eh sarà un duemila e ventiquattro eccezionale e vi ricordo vi ricordo il MEI ok il money extreme intensive allora il money extreme intensive il l'evento dove ci vedremo dal vivo a Bologna il ventisette ventotto di aprile a Bologna money extreme punto it lo vedrete comunque pubblicizzato anche nei prossimi giorni sui canali l'evento che doveva essere fatto a novembre l'abbiamo spostato a fine aprile ma sarà un evento molto molto ampio dove ci saranno delle cose ancora in più perché in questo periodo avevamo impegnati abbiamo dovuto rimandarlo perché avevamo impegnati con la nascita del nostro fondo privato ok eh il value capital fund che abbiamo presentato e siamo proprio adesso ehm con dei risultati estremi lo ne ne sentirete parlare sicuramente perché abbiamo eh fatto ehm abbiamo creato questo nuovo sistema di cui parleremo anche tra poco ehm abbiamo volevamo dare una parte alle persone una parte a voi della community solo le persone che già fanno parte della community solo le persone che sono già clienti in IPAI e c'è stata una sottoscrizione praticamente moltiplicata per quattro rispetto a quella che era la nostra offerta ehm e quindi è stata un po' una botta che non si vede facilmente eh in quelli che sono i programmi che vediamo in giro quindi ne parleremo ne parleremo presto quindi avevamo dovuto rimandare il money extreme intensive ma sarà ancora più intensive il 27 28 aprile quindi ci sarà anche un ponte ravvicinato potete già iniziare a prepararvi perché sarà veramente molto molto interessante money extreme punto it allora eh iniziamo subito iniziamo subito il mercato avrà uno storno nel 2024 eh dopo un'annata veramente veramente importante io vorrei subito subito andare ad entrare nel vivo perché tra poco poi vedremo risultati vedremo storici vedremo tante tante cose molto molto importanti io vorrei subito entrare nel vivo e vorrei andare a vedere con un supporto grafico quello che un po' è stato eh è un po' quella che è stata l'annata del 2023 vediamo se la vedete bene come in fondo perfetto perfetto ok allora questa è stata un po' l'annata del 2023 ok la vediamo molto bene il 2023 è stata un'annata allora allora guardate un po' qua eccoci qua ok abbiamo avuto un'annata sì sicuramente in 2023 che è partito un po' in sordina dopo un 2022 un attimino un po' eh così ma eh c'è stato un semestre veramente veramente importante ok un semestre importante che era partito un po' dai minimi che avevamo toccato a dicembre e a dicembre dell'anno scorso del 2022 il mercato ha tirato di brutto fino a luglio ha fatto sette mesi veramente interessanti anzi diciamo il primo mese togliamolo che è stato un po' questo potete vedere ma dopo i successi da febbraio in poi sono stati mesi mesi veramente veramente intensi siamo arrivati a dei risultati estremi e noi avevamo detto dopo eh andate a vedere le dirette di questi tempi qua dopo una tirata così importante se il mercato ti fa il sedici il quindici per cento nel giro di sei mesi non è che non significa che farà un altro quindici negli altri sei mesi chiuderà al trenta significa che sicuramente appena ci saranno notizie un attimino un po' così ci sarà uno storno e poi eventualmente una ripartenza ed ecco che è partito guardate che storno c'è stato uno storno veramente importante a derivare i minimi di ottobre che tra l'altro ottobre storicamente lo diciamo sempre ottobre storicamente è una mesata una mesata eh dove eh ci sono una serie di problemi come spesso sono a maggio ok maggio ottobre sono sempre quelle mesate dove ci possiamo attendere delle sorprese ma poi dal dal mese di ottobre c'è stata una risalita ancora più forte di quella precedente una bordata veramente importante allora questo è quello che vi ho fatto vedere proprio graficamente come si è mosso primi primi sette mesi fino a luglio storno fino a fino ottobre questi gli ultimi due mesi novembre e dicembre che sono stati due mesi veramente il classico rally di natale c'è stato confermato quest'anno il rally di natale quindi abbastanza didattica la cosa e adesso si parla di uno storno si parla di uno storno di quello che sarà allora tanto andiamo a vedere come ci siamo comportati nel duemila e ventitré il duemila e ventitré è stata un'annata intensa perché ma semplicemente perché il duemila e ventuno eh vorrei farlo vedere vediamo se qua mi si aggiorna il grafico ecco il duemila e ventei portafogli chiusi eccolo qua due questo è stato lo storno del duemila e venti il ritorno la chiusura e poi il duemila e ventuno solo praticamente salita il duemila e ventuno abbiamo chiuso i portafogli al trenta per cento nel duemila e venti sfruttando lo storno della pandemia con le nostre metodologie abbiamo raggiunto i risultati superiori abbiamo raggiunto i record dei portafogli dopo li andiamo a vedere ehm superiore al trentacinque per cento ma chiaramente dopo un'annata come il duemila e ventuno che ha fatto una tirata della madonna vuoi per una scusa vuoi per l'altra era prevedibile uno storno del duemila e ventidue infatti immediatamente nel duemila e ventidue siamo arrivati a fare dei tagli all'interno dei nostri portafogli a rientrare in liquidità e dopodiché tornare pian piano a riposizionarci nel corso della giornata questo ci ha per me nel corso dell'annata questo ci ha permesso di eh ripartire meglio di non beccarsi di portare una protezione del patrimonio come facciamo ogni singolo anno ogni singolo mese dopodiché ripartire in tronco in maniera molto molto serrata molto intelligente e il duemila e ventitré ci ha dato ragione soprattutto anche perché nel duemila e ventitré delle accumulazioni ferme in questi primi sei mesi abbiamo sfruttato e lo sapete bene ecco noi abbiamo sfruttato molto molto bene questo periodo questo periodo per andare a dare la bordata finale e andare a chiudere ancora una volta i nostri portafogli con risultati superiori al venti per cento anche quest'anno su varie linee quindi è stata veramente molto molto bella andiamo subito a vedere quelli che sono stati i risultati dietro a questo ma torneremo qua perché farò vedere un attimino quelle che sono le previsioni per il duemila e ventiquattro ok perché il duemila e ventiquattro ha delle previsioni bisogna stare attenti agli storni vi dirò un attimino come ci movimenteremo noi e come ci riqualificheremo nel corso di quest'anno allora io direi subito subito di andare a fare un bello screening qua tutti in real time eccolo qui andiamo a vedere adesso i risultati un attimo che chiude un po di questa roba qua che mi si apre tutte le volte levati bravo così ok allora andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati per l'annata attuale ok allora dov'è che è quella qua ok questi sono i risultati dei nostri portafogli chiusi no non è questo scusatemi non è questo interrompi fermi lì allora scusatemi è allora questo è il 2 ottobre ma come mai è capitata questa cosa allora andiamo a vedere qui eccoli ok un attimo è eccolo lì ok l'abbiamo ribeccata era rimasta un'immagine un po vecchiotta allora immagino saperemo noi facciamo vedere i risultati ogni mese dei nostri portafogli quindi era opportuno andarli ad aggiornare eccolo qua allora questi sono altri c'era poi un aggiornamento a ottobre che ovviamente due mesi prima qua è proprio la chiusura del 31 dicembre quindi tutto tutta l'annualità quindi abbiamo riassunto l'annualità del 2023 ok il nostro portafoglio per la pensione quello che facciamo nel lungo termine dove mettiamo gran parte tf dove mettiamo gran parte fondi indicizzati e ha chiuso al 21 e 71 per cento quest'anno quindi grande risultato ok anche un po' superiore a quella che è il nostro benchmark che è il mercato globale è andato veramente molto molto bene siamo molto molto contenti anche perché il nostro fondo di pensionamento va avanti e non c'è niente a che vedere con quelli che sono ad esempio i fondi pensionamento che facciamo con le assicurazioni dove quando il mercato fa il 30 per cento le assicurazioni danno il 3 ok ci tolgono uno zero e lo tengono loro mentre noi abbiamo dei risultati di un certo tipo e tante persone a casa fanno questo e portano a casa dei risultati molto molto importanti seguendo poi una serie di linee che facciamo anche noi ok questo è il wall street performance i portafogli ad alto rendimento costituite solo da azioni singole quindi le azioni singole quest'anno come sempre i punti sono maggiori abbiamo fatto il 24 e 78 quest'anno ma ci sono state connotazioni vicino al 30 per cento poi c'è stato uno storno lo storno che c'è stato intorno a ottobre le azioni sono ridimensionate un pochino hanno ripreso un po di boost si sono fermate un attimino prima ma sappiamo che le potenzialità di questo portafoglio sono potenzialità ancora superiori che poi nel lungo termine si vedono perché questi piccoli risultati che sembrano spesso andiamo su dai cinque a dieci punti in più rispetto con le azioni rispetto ai portafogli normali di pensionamento e insomma questi punti alla fine si fanno sentire anche se per per i neofiti per le persone che vogliono stare più tranquille sicuramente il portafoglio inerente alla pensione il portafoglio più idoneo più ideale per raggiungere ottimi risultati guardiamo il nostro capital box formula una delle nostre punte di diamante o meglio l'accumulazione di risparmi mensili dove partiamo con ogni anno partiamo con otto mila euro inseriti prima e poi quattrocento euro mensili che andiamo ad accumulare ma non li accumuliamo tutti i mesi risparmiamo delle commissioni facciamo al massimo sei dai cinque ai sette accumuli all'anno non di più ma solamente determinati periodi accumulando molto di più in determinati periodi dell'anno seguendo una serie di cicli e inevitabilmente i risultati sono estremi e questi sono in particolare questo il nostro cbf e il primo sono dei fondi vitalizi che ci teniamo veramente per tutta la vita e sono risultati estremi 34 per cento chiaramente qua non c'è tutto il capitale qua c'è tutto il capitale per cui qua sono semplicemente dei punti dove entriamo e i risultati sono veramente estremi i risultati sono estremi grande grande risultato il 34 per cento le nostre dieci migliori azioni che avevamo segnalato a gennaio gestiti con i metodi one time week sul mio sito massimianacera.it nei corsi gratuiti trovi la metodologia una parte della metodologia che utilizziamo per gestire le azioni 10 migliorazioni che avevamo segnalato a gennaio del 2023 sono andate molto bene hanno chiuso al 23 per cento il portafoglio con chiaramente una gestione con alcune che hanno fatto di più altre che poi sono state gestite nel corso del tempo e i nostri investimenti di medio termine hanno chiuso l'annualità all'ipotetico 36 per cento cioè sono investimenti dove entriamo in titoli solitamente azionari per un breve periodo che dura più o meno dai tre ai cinque sei mesi per ogni singola e tra l'altro durante lo storno chi ha seguito abbiamo colto da walt disney a colgate palmolive coca cola johnson and johnson a abvi abbiamo chiuso tutta una serie di operazioni insieme sono andate tutte in positivo tuttora sono tutte in positivo e siamo veramente molto molto contenti contando che poi noi abbiamo iniziato già prima di mettere sul piatto agli altri chi seguiva la nostra master school sa che noi utilizziamo queste metodologie di medio termine da molti anni e queste metodologie non tengono conto della leva finanziaria che utilizzi perché in realtà fai abbiamo fatto il 36 per cento ma se utilizzi la leva finanziaria i risultati sono maggiori ok quindi direi direi che veramente possiamo possiamo dire che sono stati eh veramente siamo molto molto contenti è stata un'annata veramente molto molto buona e possiamo veramente far vedere dei risultati eh di tutto rispetto ok adesso andiamo a vedere quelli che erano invece ehm i portafogli ok i nostri portafogli di ehm i nostri portafogli nostri storici ok vi facciamo vedere i nostri storici eccolo qua adesso partiamo primo allora lo lo storico del nostro ehm portafoglio dedicato al pensionamento il nostro portafoglio in lungo termine dove teniamo in gran parte titoli quindi come eh etf o fondi indicizzati eccolo qua questi sono i nostri storici con la chiusura con la chiusura non aggiornata un attimino eh anche qua fermi lì fermi lì oggi non capisco come mai io ho aggiornato questi file un attimo ok un attimo solo che vado a fare l'aggiornamento eccoli qua trovato benissimo allora andiamo subito a condividere quello giusto anche qua avevo avevo ehm settato quello di ottobre abbiamo quello settato quello giusto ok con l'aggiornamento all'1 1 24 eccolo qua allora il nostro ehm portafoglio nostro veramente fondo di pensionamento privato che utilizziamo che le persone fanno a casa loro ok assistite noi assistiamo le persone ma lo fanno a casa loro a casa loro a casa proprio sul proprio conto acquistando ben pochi titoli ma grandi performance quest'anno abbiamo visto il 21 e 71 di chiusura a fronte del nostro indice che è l'indice all country che è chiuso al 18 per cento e rotti per cui anche l'indice si è mosso veramente molto molto bene eh abbiamo una media composta di oltre di siamo tornati attorno al 29 per cento una media composta straordinaria annuale composta significa che io investo ma non vendo mai centomila euro eh inseriti all'interno di questo portafoglio nel duemila e quindici quindi a pieno regime nel duemila e sedici oggi si sono trasformati in trecentotrentaseimila euro e rotti con una media veramente straordinaria e pian piano io ogni volta vado ad accumulare eh gli interessi e risultati che ho durante l'anno quindi vado ad accumuli lascio dentro e chiaramente eh investo un montante molto maggiore che mi dà un utile molto maggiore semplicemente perché eh il dieci per cento di diecimila eh è una cifra molto minore del dieci per cento di centomila ok quindi avendo un capitale sempre maggiore ho un interesse sempre maggiore che mi accumula e mi fa arrivare ad avere dei capitali veramente molto molto ampi con una media composta veramente molto molto importante e guardate un po' gli storici con i tre anni di fila superiore al trenta per cento duemila e ventuno il nostro record nel duemila e venti il duemila e diciannove dove anche il mercato si è comportato molto bene eh quindi siamo alcune nate come il duemila e ventuno e il duemila e diciannove ma anche un po' quest'anno siamo stati in linea con il mercato sono un po' fuori linea le persone che se il mercato fa il venti per cento o il trenta per cento in banca fanno il cinque allora quelle persone dovrebbero rivedere un attimino la strategia bancaria contando che anche quel cinque per cento che fanno spesso viene mangiato dalle commissioni quindi direi uno storico molto molto interessante guardate poi i risultati che abbiamo fatto rispetto al mercato questi sono i risultati che ogni anno abbiamo fatto rispetto al mercato tra l'altro il record è stato l'anno scorso quando il mercato ha perso molto e noi abbiamo contenuto il tutto grazie alle nostre metodologie quindi veramente molto molto bello e andrei a far vedere adesso quelli che sono stati i nostri risultati con il mercato azionario ok il mercato azionario andiamolo a rivedere allora mercato delle azioni allora vediamo un attimo chiudiamo eccolo qua il nostro mercato azionario torniamo qui la nostra finestra eccolo qua questi sono gli storici del mercato azionario ecco qua dobbiamo aggiornare il 2023 ma guardate questo è il risultato sempre alla chiusura del 2024 il portafoglio ha fatto quasi il 25 per cento abbastanza in linea col nostro benchmark che l'indice standard pur 500 ma sappiamo che questo risultato spesso prende guardate poi il risultato dove l'anno scorso l'indice è stato in negativo noi siamo riusciti a chiudere leggermente in positivo e guardate poi i risultati negli anni precedenti dove ci hanno portato perché avendo un misto di quelle aziende che tirano a volte di più rispetto a tutto l'indice spesso riusciamo ad ottenere dei risultati molto migliorativi rispetto all'indice stesso già solo riuscire a battere il mercato e a fare di più in maniera sostanzialmente costante negli anni è un risultato straordinario e guardate qua come siamo qua siamo partiti molto molti anni prima il 2013 oggi i nostri centomila si sarebbero trasformati in oltre un milione di euro e quest'anno sono ancora di più adesso attendiamo l'aggiornamento di questa scheda quindi direi che ci sono dei risultati storici anche importanti che ci fanno ben sperare ci fanno ben sperare ci rendono contenti adesso andiamo a vedere quelli che sono quelle che sono le previsioni per l'anno in corso poi se ci sono domande siamo qua a disposizione vedo che già ci sono alcune domande e noi le rispondiamo tutte adesso in fondo se non facciamo in tempo per questioni di tempo ci sarà un operatore che risponde anche in via successiva nella diretta allora andiamo a vedere quelle che sono le prospettive per il 2024 prima abbiamo fatto vedere un grafico adesso ci rimettiamo sopra e faremo vedere un attimino quelle che sono quelli che sono stati i risultati del 2023 che cos'è che ha inciso nel 2023 su una serie di cose e le prospettive per il 2024 allora io tornerei in condivisione con i nostri grafici ok con il nostro grafico del mercato perché voglio farvi vedere una serie di prospettive anche per aiutarvi a gestire i vostri investimenti allora per quanto riguarda metodi tipo il capital box formula che ritrova ricordiamo lo trovate sul libro la pensione quando vuoi in questo libro trovate la modalità per fare l'accumulazione dei risparmi in maniera vincente questo libro è un super best tra l'altro tradotto in maniera internazionale per chi vuole leggere in lingua inglese nella versione internazionale questo libro è il libro che ti aiuterà a praticamente gestire la tua accumulazione in maniera completamente autonoma in maniera vincente nel corso del tempo allora abbiamo detto questo grande questa grande partenza questo storno nel 2000 nella nella seconda parte del 2024 e poi negli ultimi due mesi nel 2023 scusate gli ultimi due mesi la grande partenza e il grande ritorno in alto allora potete vedere come l'indice in questo caso l'indice standard per 500 che noi prendiamo come riferimento noi abbiamo fatto notare più volte sono delle tecniche delle strategie che noi utilizziamo sono le metodologie one time week sono metodologie di investimento che utilizziamo soltanto noi da tantissimi anni sono metodologie vincenti che ti aiutano a gestire ricordiamo sempre che non sono i titoli a fare la differenza ma è la metodologia di gestione è la gestione che fa la differenza è come tu li gestisci i titoli mcdonald non ha i migliori panini al mondo ma un sistema di vendita vincente che attira le persone in tutto il mondo microsoft non ha il migliore sistema operativo al mondo ogni tanto si bagga ogni tanto dei problemi ogni tanto dei virus ma è il sistema è il sistema con il quale viene venduto come il quale viene percepito dalle persone che fa la differenza nel mondo e questo è anche quello che avviene nei portafogli negli investimenti negli investimenti è la modalità di gestione che fa la differenza ok sempre la modalità di gestione mai i titoli i titoli vanno e vengono i titoli possono cambiare nel corso del tempo la gestione resta come ad esempio la gestione dell'accumulazione la gestione dell'accumulazione perché è vincente l'accumulazione graduale perché torni in liquidità e oppure utilizzi la liquidità per sfruttare questi momenti sfruttare i clienti se andiamo a vedere veramente sempre più indietro questi momenti come lo sono della pandemia questi momenti del 2022 della guerra dell'inflazione e quant'altro questi momenti come adesso sono i momenti che storicamente questo è il 2018 prima abbiamo lo sono del 2009 con i mutui subprime ok andiamo a pescare qua giù guardate che grande salita ma dopo prima di questa grande salita c'era stato eccolo qua i mutui subprime che andiamo a vedere dal 2007 al 2009 guardate qua che discesa ok ma proprio in quei contesti di discesa quelli sono i contesti sui quali possiamo andare veramente a creare dei risultati estremi e andare a gestire quella che è la nostra operatività ok quella che è quelli che sono i nostri risultati è proprio la gestione dei momenti difficili che porta i maggiori risultati allora voglio far vedere per aiutarvi a fare una proiezione per quest'anno voglio farvi vedere una serie di cose ecco ve l'allargo un pochino per farvi vedere fermoli bravo allora guardate questi movimenti ok li allargo ancora di più ok guardiamo questi movimenti ve li voglio mettere abbastanza ampi ecco qua ok guardate questi movimenti guardate questo storno guardate questo storno guardate questo storno questi sono gli storni che ci sono stati nel me nei mesi dell'autunno 2023 guardate che più o meno sono uguali a questo uguale a questo uguale a questo guardate come se andate a calcolare da qui a qui da qui a qui e questi vedete che quest'indice ci dà un'indicazione questi che a me sono dei nostri metodi one time week il double mirror ci dà delle indicazioni estreme ok indicazioni estreme questo indice si muove con delle onde molto molto didattiche molto molto interessanti allora proprio adesso è arrivato al termine dell'onda si è fermato ed è uno storno allora affinché non ci sarà sostanzialmente uno storno inferiore a questo livello quindi finché saremo al di sopra dei 4540 punti indicativamente ok possiamo star tranquilli dopo possiamo vedere semplicemente che c'è un ritracciamento un attivino più profondo finché siamo all'interno di questa fase può darsi che ci sia un ulteriore ritracciamento che possa arrivare anche fino qua ma leggermente più corto volendo potrebbe essere più corto con una partenza che possa riflettere ancora una volta guardate anche qua ok crescita piccolo storno crescita piccolo storno crescita sempre più o meno della stessa portata ok che poi andiamo a vedere sulla una portata simile anche nei periodi precedenti allora molto molto interessante dopo una cavalcata praticamente verticale dai primi di novembre al 31 dicembre praticamente poco prima del 31 dicembre ok ecco guardate era proprio il 20 con i picchi toccati al 29 veramente proprio dal primo di novembre al 30 di dicembre proprio puntuale ok due mesi di rally è stato molto e vorrei dire troppo verticale vuol dire che sicuramente ci sarà uno storno poi quando ci sono degli storni poi ma c'è uno storno così no solamente gli storni sono c'è una scusa per lo storno sempre come c'era nel 2022 2022 non era non c'è stato lo storno perché putin è entrato in guerra ma c'è stato lo storno perché il 2021 è andato troppo forte allora ci doveva qualsiasi cosa che potesse capitare in quel periodo avrebbe inevitabilmente generato uno storno allora qua c'è stata una salita troppo verticale ciò non significa che non continuerà significa che statisticamente avendo poi tra l'altro terminato quest'onda è facile che ci possa essere un ritracciamento con vari pretesti paure a livello economico paure ancora dello scontro freddo tra cina e usa per quanto riguarda la parte economica paure perché la bolla immobiliare della cina che potrebbe andare a colpire tutti anche tutto il mondo paure perché l'inflazione è scesa ma non è ancora scesa ai livelli che vogliono le banche centrali nonostante i tassi sono altissimi per cui le banche centrali potrebbero continuare ad intervenire o comunque lasciare i tassi alti perché comunque anche in questo momento lasciare i tassi alti può portare problematiche economiche e chiaramente in questo periodo un altro pretesto che può venire fuori che è un pretesto poi realistico è quello che con i tassi così a se continuiamo con i tassi così alti tassi alti portano povertà il costo del denaro è molto più alto le cose costano di più le imprese hanno maggiori difficoltà ad intervenire con dei finanziamenti il finanziamento perché noi finanziamo 50 mila euro ma le aziende finanziano 5 miliardi e due punti percentuali in più sono soldi e sono tanti soldi che pagano in più le aziende per finanziarsi per cui tutto questo porta a povertà generica perché le persone fanno meno mutui per comprare casa fanno meno finanziamenti per movimentare una serie di cose tra cui anche l'edilizia le ristrutturazioni e quant'altro gli acquisti di conseguenza coi tassi alti le aziende hanno meno introiti avendo meno introiti devono licenziare di più licenziando di più c'è meno lavoro c'è meno ricchezza quindi è un indotto con i tassi alti che viene creato apposta dalle banche centrali per fare in modo di abbattere l'inflazione abbattendo l'inflazione con questo indotto che cosa avviene che le persone hanno meno soldi spendono di meno e quindi tutto quello che è l'area con l'indotto commercio deve abbassare i prezzi quindi far tornare i prezzi un attimino indietro e abbattere un po' l'inflazione un'inflazione che non è quella che ci dicono in televisione non è al 4 per cento non è al 5 per cento quella è l'inflazione calcolata su una base globale ma l'inflazione reale per noi è quella e rimarrà preparatevi che i prezzi si abbasseranno un pochino nel 2024 ma molto poco avete visto come andiamo e paghiamo la pizza molto di più paghiamo l'olio ed oliva molto di più paghiamo determinati alimentari molto di più e non il 5 per cento in più perché il 5 se io pago prima pagavo un alimento 6 euro con il 5 per cento in più avrei dovuto pagare sostanzialmente 30 40 centesimi in più no lo pago 2 euro in più 3 euro in più per cui è un rialzo del 30 per cento del 25 per cento questa è la realtà che paghiamo noi anche se si parla di inflazione al 5 a inflazione al 4 e i prezzi per quanto possano diminuire ci abitueremo a pagare a pagare di più a avere dei prezzi più alti le persone tendono a dimenticare gli stati lo sanno sono coscienti di questo ho fatto l'esempio di una diretta di dicembre dove in questo momento c'erano i prezzi del gasolio a 1,70 1,80 molti sono dimenticati che quando il gasolio a 1,70 1,80 un paio di anni fa hanno fatto dei sit in hanno bloccato le strade adesso 1,70 1,80 nessuno batte ciglio e a tutti va bene ok ma ricordiamo che hanno fatto dei sit in in mezzo alla strada per 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 perché era troppo alto adesso siamo tutti sembra che sia basso ok quindi guardate come la percezione delle persone cambia proprio in base a questo è molto facile che avremo uno storno e sicuramente una ripartenza successiva quanto sarà profondo questo storno lo vedremo adesso nei 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 prossimi mesi dipenderà molto da questi fattori l'inflazione da come è stata diciamo così rinchiusa come è stata ingabbiata bene e soprattutto dipenderà da una cosa una cosa importante una cosa fondamentale le banche centrali interverranno per ridurre i tassi di interesse allora i tassi di interesse si passeranno solamente nel momento in cui i prezzi saranno stati contenuti ci sia veramente una tendenza continuativa rialzo altrimenti le banche centrali terranno duro terranno i tassi alti tassi alti significa prepararsi ad avere meno introiti per le aziende meno utili e quindi le aziende che poi costituiscono il mercato questo indice ricordiamo lo stem pre fatto dalle aziende non dagli stati ecco perché non devi guardare il telegiornale perché il telegiornale non parla dei risultati dell'azienda quando detto ci sono i risultati dell'azienda parlano dei problemi degli stati ma i problemi degli stati non fanno parte di questi risultati qua ok qua ci sono gli andamenti delle aziende nel mercato ci sono le aziende sono amazon sono facebook google o per noi c'è stellantis o meglio la fiat l'eni la erg l'enel e quant'altro ok quindi nel mercato ci sono le aziende la previsione è che il duemila e ventiquattro in teoria potrebbe essere un'annata ancora di crescita ancora di crescita abbastanza sostenuta per quale motivo perché io vi ricordo che questa crescita quindi abbiamo iniziato il duemila e ventitré qua e l'abbiamo chiuso quassù quindi ragazzi ora togliendo questo movimento ma abbiamo fatto veramente il mercato era è partito dai 3.850 adesso è 4.700 ok questo nel caso l'indice standard per 500 un'annata positiva ricordo con tutte le problematiche connesse con i tassi altissimi quindi quando eravamo al massimo dei problemi con i tassi delle banche altre che portano veramente tante tante problematiche in tutto l'indotto l'abbiamo spiegato con tutti questi problemi nel momento in cui questi problemi erano tutti a galla ci sono stati questi risultati quindi è normale che un miglioramento della scena come quella che potrà esserci nel duemila e ventiquattro e io penso che i primi interventi saranno molto interessanti vedere i primi interventi delle banche centrali perché ci dovranno essere assolutamente le banche centrali non possono tenere i tassi così alti perché significa abbattere l'economia mondiale in particolare i tassi così alti in europa che l'america una economia molto forte ma in europa i tassi così alti sono molto 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 pericolosi perché l'economia dell'europa è appesa quelle tre quattro nazioni appesa con la corda al collo ok quindi sarà molto molto interessante vedere nel primo semestre quelle che saranno le le movimentazioni delle banche centrali qua uno storno potrebbe esserci semplicemente una questione come posso dire naturale ok perché una bordata così verticale per forza di cose porterà ad uno storno e sicuramente una gestione almeno fino qua andiamo a vedere fino qua che cosa succederà quali saranno le notizie e quali saranno le prospettive di abbassamento dei tassi di interesse da parte delle banche centrali che comunque dovranno intervenire quindi il primo semestre sarà molto importante per capire soprattutto quando interverranno quindi prepariamoci uno storno uno storno che sarà sicuramente un'occasione di acquisto ok sia per quanto riguarda i nostri programmi di accumulazione sia per quanto riguarda i nostri portafogli attenzione chiaramente ai portafogli dovremo scegliere dei titoli giusti dei trend giusti come ci muoveremo noi all'interno dei portafogli all'interno dei nostri portafogli ci muoveremo ecco siamo già fuori tempo tra l'altro all'interno dei nostri portafogli ci muoveremo con delle movimentazioni molto molto selezionate quindi avremo meno titoli e un attimino più in trend sfrutteremo dei trend settoriali vi porteremo qualcosa anche qua sul canale in modo da avere la possibilità di sfruttare quindi vi porteremo anche una metodologia nuova che potete utilizzare insieme a Mauro Benfatto ci vedremo presso in diretta che è il nostro super trader che lavoro insieme a noi lavoriamo sugli investimenti da tantissimi anni abbiamo creato i metodi one time week ci vedremo qua per vedere un attimino come si sfruttano i trend del 2023 del 2024 e come poterli identificare in maniera anticipata e poterli sfruttare ok quindi molto molto interessante per quanto riguarda i nostri investimenti allora c'era qualche domanda i risultati li abbiamo visti gli storici ecco vi ricordo vi ricordo per coloro che hanno presottoscritto il nostro super fondo nostra che poi la nostra azienda che è partita con il riconoscimento di startup le sottoscrizioni sono state aperte il 29 di dicembre sono aperte tuttora manca pochissimo manca la chiusura purtroppo vi diciamo già che qualcuno resterà fuori perché alcune persone hanno diciamo inserito di più di quello che era di quello che era nelle previsioni che il nostro value capital fund se non ancora non hai visto niente puoi vedere le presentazioni all'interno del gruppo facebook abbiamo fatto nel canale telegram vedi anche qua il link delle presentazioni che abbiamo fatto è un qualcosa che veramente puoi creare insieme a noi dove guadagni con lo sgravio fiscale del 30 per cento riconosciuto dallo stato dove puoi prendere gli utili della nostra azienda che abbiamo creato noi quindi puoi investire veramente insieme a noi in quello che facciamo noi e la rivalutazione della quota quindi ci sono varie varie escalation e proprio value capital fund nel corso degli anni a disposizione di tutti gli investitori in italia e in europa presenterà un paio di applicazioni una in particolare ci sarà un'applicazione molto molto interessante che aiuterà tutti gli investitori a identificare gli interessi semplificherà gli investimenti siamo già in costruzione quindi la vedrete uscire a breve sarà in anteprima per tutti gli aderenti a value capital fund e poi arriverà anche sul mercato per tutti e il nostro capital box formula le nostre sistemi di accumulazione i nostri sistemi di investimento serviranno per semplificarvi la vita a casa e potete seguirli via autonoma semplicemente avendo un'applicazione senza più andare a fare delle ricerche infinite perché questa questi software vi aiuteranno veramente a lavorare e ma lavorare non tanto con i bot di trading no qui sono software da investitori per veramente creare delle rendite vitalizie nel corso del tempo per accelerare il vostro processo di screening dei migliori titoli delle migliori aziende e portare veramente un boost in più quindi tutto e tutte queste metodologie le potete seguire con queste applicazioni che lancerà appunto value capital fund chi è all'interno di value capital fund se le prende e si prende anche gli utili di queste vendite oltre che poi gli utili degli asset che stanno all'interno chi saldi fuori potrà semplicemente sfruttare queste applicazioni allora vi ricordo il money extreme intensive ci vediamo dal vivo due giorni in aula per imparare a investire per imparare a creare grande rivoluzione finanziaria personale per imparare a creare una attività vincenti tutto quello tanto lo presenteremo adesso nel mese di gennaio ma veramente tante tante cose e sarà l'occasione di vedere dal vivo tutto lo staff ci sarò io sarà mauro ben fatto ci saranno gli altri ragazzi e sarà veramente un programma straordinario che trovate su money extreme punto it allora qualcuno chiede do spazio a due tre domande qualcuno chiede se è il momento di accumulare adesso per fare le accumulazioni mensili allora le accumulazioni mensili sì c'è stato un piccolo storno però le accumulazioni mensili possiamo veramente attendere prendiamocelo questo storno tanto lo storno prima o poi arriva noi non abbiamo accumulato per alcuni mesi di fila per tre quattro mesi di fila non abbiamo accumulato e le persone chiedono ma quando accumuliamo era poco prima dell'estate ma quando è il momento si accumula siamo sempre lì fermi e poi boom 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 durante settembre ottobre novembre è arrivata la martellata con dei risultati estremi quindi bisogna avere pazienza il mercato ci dà sempre delle buone opportunità quindi adesso il momento di poter attendere un attimino poter accumulare semmai una cifra mensile su questo piccolo storno che c'è stato ma le cifre che semmai abbiamo tenuto ferme nel corso dei mesi precedenti possiamo attendere un attimino di rivederle allora qualcuno velocemente mi chiede è meglio avere il titolo avere il fondo la società che avete creato voi allora è proprio una scelta è una scelta personale quello che hai fatto finora con il portafoglio che abbiamo visto questa sera li fai da solo a casa in maniera assistita e ti prendi la rivalutazione della quota ok compri la quota di un titolo lo utilizzi con un metodo lo gestisci con un metodo semmai con la nostra assistenza e poi quando sarà il momento lo venderai ad una quota superiore ok andai a fare dei prelievi graduali ad una quota superiore fai tutto sul tuo conto con il nostro fondo sostanzialmente ti togli quest'onere se hai una società hai un vantaggio molto molto ampio perché puoi pagare meno tasse un privato che va a ritirare gli utili di questi portafogli paga il 26 per cento una società può arrivare a pagare l'1,2 per cento quindi un abbattimento del 24 per cento di tasse quindi molto di meno se lo fai come azienda se invece investi come privato hai lo sgravio fiscale del 30 per cento quindi hai intanto facendolo con noi hai uno sgravio fiscale riconosciuto dallo stato in base alla tua IRPEF se lo fai come azienda hai invece la deduzione oltre quindi non hai una sola fonte di reddito hai tre fonti di reddito sgravio fiscale dividendi che prendi ogni anno potresti anche tenerti la quota per tanti anni e tenerti un fondo veramente vitalizio perché questo è l'intento e terza cosa quando venderai ti prenderai la rivalutazione della quota quindi prendi tre fonti rispetto a una fonte sola questo è il vantaggio c'è un altro vantaggio quello che non devi fare niente tu ma è sostanzialmente passivo farlo insieme a noi è passivo nell'altra maniera ce l'hai tu per cui può essere utile se vuoi fare avere il portafoglio privato può essere utile puoi anche tenerti in parallelo sia l'uno che l'altro portafoglio privato può essere utile per coloro che vogliono avere in mano completamente la gestione per coloro che vogliono avere una parte che hanno bisogno di guidare nel corso del tempo in maniera più immediata portafoglio lo liquidi subito fai un click lo liquidi quindi sono proprio scelte non c'è quello sicuramente quello che abbiamo creato noi il value capital fund può essere può avere delle prospettive molto maggiore perché a varie fonti ok all'interno ci sono degli asset c'è i risultati del della vendita delle applicazioni dei software in privato quindi sono varie varie formule per cui se vuoi puoi chiamare un allenatore ti fa vedere proprio una serie di risultati e di vantaggi e entrambe le cose sono molto buone ok entrambe le cose sono molto buone allora vedo che mi arriva una domanda qua perché stavo stavo leggendo tra l'altro i risultati che io vi ho detto tutto ecco una domanda è grazie grazie marcello allora se adesso è il momento di vendere i titoli marcello ci chiede se è il momento di vendere i titoli perché sono un po troppo alti proprio quello che diceva hanno fatto una tirata verticale giustamente marcello mi dice c'è la possibilità di uno storno è perché non vendiamo così poi ricompriamo allora marcello intanto c'è la possibilità di uno storno non la certezza noi sui mercati finanziari non lavoriamo mai con le certezze lavoriamo con l'analisi con la metodologia e con la struttura per cui abbiamo evidenziato che storicamente statisticamente potrebbe esserci uno storno perché è finito lo swing del mercato l'abbiamo fatto vedere quel movimento ricorrente quindi ci può essere uno storno poi una tirata così ampia solitamente una tirata così verticale di due mesi solitamente per lo storno quindi sono tutta una serie di possibilità che riguardano questo ma non ho parlato di crollo marcello non ho parlato di crollo ho parlato di uno storno ho parlato che c'è la possibilità che ci possa essere una uno storno per cui se tu devi fare del trading allora devi devi già essere intervenuto in una certa maniera noi stiamo parlando di portafogli di termine più lungo per cui stiamo parlando di investimenti di una gestione degli investimenti e paradossalmente questi momenti questi momenti di storno sono da tenere sott'occhio perché perché possono essere occasioni ci sono sempre delle occasioni quando tutti scappano quando vedi le cattive notizie poi ogni volta che c'è uno storno di mercato in maniera contemporanea ci sono delle cattive notizie alla televisione cattive notizie sull'esflazione sui prezzi su queste su quell'altro tutti si spaventano la gente scappa e quelli sono i momenti migliori per cui non sto dicendo che c'è un cro quindi vendere vendere io direi che se devi fare una riqualificazione di alcuni titoli si è il momento di vendere e ricomprarne altri se invece devi fare una normale gestione di portafoglio diamo un occhio perché queste potranno essere occasioni di acquisto da qui a sicuramente negli storni che ci saranno nel 2024 perché se quando tutto andava male con i tassi al massimo il mercato ha tenuto così bene come nel 2023 inevitabilmente c'è la possibilità di fare degli ottimi risultati nel 2024 quando in teoria dei banchi centrali dovranno dovranno per forza intervenire sul lato opposto e fare meglio e portare miglioramento per cui se abbiamo tenuto così bene c'è la possibilità di tenere bene tenere meglio anche dopo quindi le prospettive economiche sono interessanti adesso ci possono essere degli storni un pochino più profondi quest'anno quindi da sfruttare marcello da sfruttare per il fatto che i tassi così alti più vengono tenuti più possono portare dei risultati un attimino peggiorativi per le aziende quindi se le aziende daranno risultati peggiorativi ci sarà uno solo un attimino più profondo che ripeto sarà un'occasione da valutare molto bene per entrare ancora in maniera più profonda nei nostri investimenti bene ragazzi direi che ci siamo allungati volevo fare una trentina di minuti ma quando ci sono questi risultati mensili ci dilunghiamo sempre c'era da vedere un attimino da valutare un po il 2024 quindi io do un buon investimento a tutti partiamo alla grande perché chiudiamo alla grandissima il 2023 nonostante tutto e ci presupponiamo per un grande 2024 quindi ci vediamo nelle dirette per value capital fund per tutti gli aderenti molto bene ci vedremo domani sera vi manderemo un messaggio perché vedremo domani sera una serie di novità sulle applicazioni che verranno vendute quindi preparatevi ci vediamo il 23 24 aprile del 2024 dal vivo a bologna due giorni sabato e domenica 27 28 di aprile al money extreme punto it ok ci vediamo con tutti e noi ci vediamo sui canali in settimana per tante tante news e tante tante dirette ok ciao a tutti buona serata buonanotte ciao a tutti